nooo guarda quello nooo ma che schifo che schifo che fai no no la mia macchina è strana ma comunque io questo gioco penso che lo disinstallerò mamma mia ma che nervoso mi sento la sterzata durissima della macchina devi controllare i freni si devi farle tagliare sicuramente una cosa no però va oh vi è arrivato l'invito ho sentito il suono l'invito accettate che secondo me vi fa collegare mi fa fare la trasmissione anche a voi dal profilo abbandona che inizia 13 secondi ho iniziato l'aggruppamento la trasmissione è stata interrotta perchè? boh ho cliccato mi è uscita la trasmissione è stata interrotta a me sta gestione inventario con il il diamante il rombo giallo che cazzo vuol dire? vuol dire che devi sbloccare qualcosa eh si ma non non madonna non lo vedi? madonna come sta? volevo toglierlo volevo toglierlo l'avevo toccata prima che entrasse questo gioco è violento nettamente questo gioco sembra puccioso macchinine con molte violenza psicologica stavo vincendo 3 sto proprio col nervoso ma questo è un gran gol aia aiaiai ma i mini messi non ci sono e tu te sei andato stavo giocando io contro pachi ma i messi ma perché sto creando i suoi definiti eh? si può gioco? ah ne ho due ti botto tagliente ragazzi possiamo fare uno scambio no vabbè eh ok ma che cosa mi dai? il bordo tagliente dell'octane che cos'è il bordo tagliente dell'octane? eh 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 lo fa 54 secondi inizio no queste sono le ruote di merda ma tu che cosa stavo facendo vabbè io sto uscendo ti ho avuto sono uscito io eh io vado a vincere adesso ah ma che cosa stavo facendo esce ancora che tra 30 secondi inizio sono uscito dai che in onda ci sono un sacco di persone si 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 non lo so non sto verificando non sto giusto ragazzi ho avuto delle ruote nere che è molto raro ma fanno veramente schifo e non le ho viste sembrano ruote normalissime e mo non lo posso mettere ma bello io voglio fare un pedologio di avere la macchina tutta nera si la macchina nera è un compo ma non le ruote si si tutto nero la macchina si 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 ma si è collegato qualcuno ragazzi si si è collegato si ma non salva se no devo fare lo se no devo fare lo streaming da youtube vaffanculo ma perchè non la salva non ho capito ma cosa non ha salvato l'altra volta non lo so ho messo l'opzione ma non la salva non so se c'è qualche problema con la playstation c'è una bella zanzara una bella zanzara un po' bella però beh non vedo l'ora di test come non mi appunto perchè piedi sangue ho già ci pensi non mi appunto perchè come a world war zed ha riconosciuto che sei malato che mi sono vaccinato e che sto male che c'è il ferro nelle dine che sto morendo in realtà che sto diventando uno zombie buono ci sta no perchè è strano che non li pungono no a world war zed sta fa lì può essere che li fai schifo eh? può essere che li fai schifo il buff no faccia ma ne hai vettude ma io mi sono preso c'è una cattivoglia oh oh mi sta valendo fame sto sentendo i rumori di piatto associato il rumore al cibo no lo stiamo leggendo non ho la dashboard davanti a me vai qui in mezzo o giulia fatti la mannaccia anche come cazzo spingono oh scusa che streamer poco professionale non ho la dashboard davanti a me se scrivono i commenti non li leggi ma scusa tu non sai se commentano le persone si so che è arrivato il commento ma non lo posso leggere ma veramente non so se dalla playstation si può fare però io devo aprire io la live e vedi apri non ho il telefono davanti nooo ma comunque non sto facendo veramente niente ecco vedi dai 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 che buono si buono si ma è buona la lascio la lascio vai 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 che è andata vai che è andata vai che è andata ma non l'ho presa per veramente pochissimi sono ancora in aria comunque quando vi mando quell'invito secondo me è l'invito per farvi strimare anche a voi dal vostro canale e quindi strimiamo tutte le aziende no 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 la prossima volta proviamo non ha fatto esplodere no 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 ancora c'è scritto anche per amici mamma mia non ho fatto esplodere qua sono appena tornato sono vicino al disinstallamento di questo gioco si può dire disinstallamento dai vai domani mi dissocio mi dissocio no dai 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 c'è c'è manzi ma un culo scusate ho visto ragazzo il lag c'è sì sì ha laggato ma pure all'inizio perché noi stiamo facendo il torneo con il server americano ma per quello che laghiamo vai pacchi andate andate oh no 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 grande si 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 mia 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 porca mi ha fregato all'ultimo sto avanti benvenuto grazie per il commento che cosa stanno commentando ma lo so che io sono erica un domenico distratto no che sono io che gioco così sempre no che il primo è stato in culo mia 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 ma dopo dopo testa no mia 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 non riesco a leggere i commenti mettete la ragazza secondo me ripeto merita o giulia ma giuliana fa dormire sicuro pensiamo e di continuare a dire che siamo privi di contenuti facendoci perdere ci stavano perché c'è fai la live non riesce a leggere i commenti schifo non è che non riesco è uno che ci sta proponendo di fare un tre contro tre immaginavo anche questa questa sì questa sito non so non so quanto riuscite a starmi dietro a quei livelli no ma sei tranquillo che sicuro che mi piace su da un po' troppo caldo è un modo per dire che sono più forti di noi si ha detto che ma sicuramente caccus che non ci vuole molto essere più forti di noi si ma noi siamo proprio basta no 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 ti prego ti prego no ma che c***o ma non ce la faccio più questo gioco io io lo disinstallo ma che c***o ma no ma che cos'è veramente madonna gli ultimi 5 secondi poi si ci metteranno la cipolla sono questi quelli che stanno commentando stanno facendo le risate assurde si chiama noi per quello guarda qua che qui sono presi poi tra l'altro hanno il punto di vista mio quindi carito se comunque ha detto non mi stavo vantando era una domanda no no ci mancherebbe ci mancherebbe che siamo noi consapevoli di fare schifo esatto però sì siamo tre pugliesi di brutto a caso i pugliesi per caso grazie pachi per farmi da moderatore al mio canale se infatti cioè voglio quella percentuale quando diventerò migliorario a fare schifo questo gioco madonna bravissimi ma non sto arrivando da dietro ma non ci credo no no ma che palle veramente che gioco di merda vai 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 dove vola dove vola no che deve volare sto precipitando nel ruoto sì andiamo avanti andiamo avanti di bari siamo tutti e tre solo che uno l'abbiamo spedito uno l'abbiamo spedito a milano perché stava rompendo il cazzo continuava a chiedere di fare l'ultima delle ultime senza parenti meriti omosessuali semplicemente il momento molto raro apri ora no 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 è vero pure io e come mai ma perché sia il 55 no ho avuto pure io ho avuto pure io un un caccettino ma sta cazzo di zanzara quello è il bello della diretta contro i comunque praticamente ieri abbiamo giocato con un amico un amico di un amico e praticamente lui dice che ha vinto il torneo però non ha sbloccato quel quell'altra ricompensa di quell'altro trofeo quello da 4.000 non lo so allora chiediamo ai nostri amici telespettatori ci stanno commentando la ricompensa da 4.000 perché noi ogni volta non è che vinci la ricompensa tu vinci le monete e noi ogni volta apriamo subito perché siamo ingordi no 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 è bloccato è bloccato quello da 4.000 c'è anche se guadagna 4.000 non lo puoi prendere è bloccato devi avanzare mi sa che mi sa praticamente funziona così anche i tornei come le competitive sgassiamolo in faccia ma vedi Pachi vedi ci stanno commentando Pachi sperando sperando che non arrivi mai un terzo della squadra avversaria da uno che si sta spammando ah e vabbè spammasse ragazzi ma scusate telespettatori vorrei rispondere alla domanda quella della ricompensa da 4.000 buongiorno scusate telespettatori buongiorno buongiorno al pubblico maschile e anche a quello femminile comunque siamo veramente dei boomer chiedo scudo chiedo scudo comunque siamo l'ultima le persone che si possono permettere di fare gli stream le usi Pierpaolo è un boomer totale io sono abbastanza nollo non ancora sei sempre più boomer ogni volta che che ti chiederò sai cosa è un boomer e tu mi direi no diventerai sempre più boomer no leggi leggi stanno commentando ha detto che dobbiamo raggiungere un rank più alto una rank più alta per sbloccare la ricompensa ah ok ti ringrazio ah grazie per la risposta ti ringrazio ma noi siamo solo dei numeri alle mie domande di argenti noi siamo solo degli argentoni il nostro caro il nostro caro dodopest3 è diventato da poco argentone è sempre stato in bronzona è la cosa divertente è che sto proprio lì lì sul filo perché continuo ad essere argento 1 divisione 1 e non mi schiodo più c'è proprio quell'ansietta di essere di tornare bronzo e di continuare a essere preso in giro e questa cosa è è l'età ha detto che sotto le coppe c'è scritto andate andate la cazzo di zanzara che mi sto spaccando il cazzo comunque voi state sicuramente vede voi voi tre io vedo tren però penso siano due perché il terzo è paghi il terzo sono io datemi consigli cosa migliorare perchè io sono veramente un pro loco questi silenzio per qua sono sicuramente molto bravo ad andare a vuoto quando male madonna madonna che bella fatto bellissima madonna mia madonna ma sono entrato in porta che parata che schifo di palla che parata ha detto qua a prendere per tu ma sono in due ma sono in due ma sono in due loro ragazzi ma sono in due vediamo allora facciamo veramente iscritto doveva diciamo se vendiamo disinstalliamo disinstalliamo anche twitch se perdiamo tempo e non lo puoi disistare quello sta c'è un massimo ma vai come questo assist guarda lì qua guarda lì qua guarda lì qua io sono andato incontro a paki e chiaramente contro di me ne ho assoluto conto ma no ma no voglio uccidere da me no ognuno ma ognuno ma ognuno che schifo che facciosta c'è questo ci sta scrivendo solo qui mi aveva appena il rank dei tornei un altro rank ma quale rank ma dove sta il rank non lo raggiungeremo mai esatto però ti ringraziamo sempre per le risposte si per favore ne hanno bisogno no ragazzi sta laggando sta laggando troppo io con più di questo non posso fare ma porca piazza ma che ti prego no io non ci prego io non ci prego comunque facciamo sempre però io faccio quell'errore di di colpirla troppo sotto no perché la colpiamo sotto però io lo faccio maledizione invece va colpita al centro la multa da 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 e vabbè niente e vabbè oggi è aggiornato non bastavano gli schiaffi che ho preso a giocare a pallone vabbè dai però dai 3 minuti non am rpm mamma mia che palla che ho messo in mezzo non brutta di più ma dai vai 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 va al centro questa va al centro ti prego vai pier p No gg no gg no no lo so la vedo dopo e lo so lo so che dovrebbe entrare non ho preso un bene giusto non ho preso il tempo una volta come ci stanno scrivendo un po di consigli molti grandi grazie hanno visto che facciamo schifo anzi non mi spiego questo spettatore e lo ringrazio ma c'è spero che mi porterà un bonifico a 50 mila euro dai dai comunque avevo sbagliato anche l'impossibile diciamo a prescita se voglio quello assurdo ma siamo sbagliando io sbagliato due gol facili faccio no io non ho preso il tempo una volta una cazzo di volte ma perché basta stavo facendo messi stavo facendo messi in modo stavo facendo messo stanotte il reflusso a pali città che c'è madonna come se bello va bello non ci credo nella presa non ho visto che il palo di un certo punto bloccato uno ha scritto se volete dopo facciamo voi tre contro me da solo e vi spiego dove sbagliate sbagliamo sbagliamo proprio tutto penso sì questa lacca no guarda come entra facile a testa ma come entra faccia ma che ecco tipo cosa sbagliato 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 a quest'ora non siamo già letto sbagliato ad aver installato il gioco ma no ma donna che violenza veramente dai ma guarda che accessi no ma stava proprio ma ma che pare cosa ha posizionato benissimo ma no ma vogliamo che schifo in 2 contro 3 abbiamo perso siete 3 1 difeso il nostro spettatore ne converrà ne converrà nel che dobbiamo chiudere il gioco e guarda la gioca raffolta che giocare in 2 è vero che giocare in due è più facile mamma mia non riesco niente comunque ce l'avrà sicuramente con me perché lì è il mio punto di vista ci sta vedendo poco voi sta vedendo molto ma no abbiamo perso i miei dissocio da questa brutta figura veramente è stato veramente devastante ma goliardico della cosa più triste e sapere che il secondo spettatore e pachi cioè abbiamo due spettatori fusi uno e pachi big money che schifo andiamo ad abbronzarci dai io che sono in live non voglio buttare i soldi facendo l'abbonamento ma no questo ruolo col brai potresti eh col brai potresti eh no no ce l'ho già ce l'ho già ad altri canali più belli di quei del tuo canali che offrono contenuti in differenza tua vabbè raga non si sono raggi più ragazzi ritrovamento molto raro secondo voi devo fare ritrovamento esotico ah ritrovamento esotico se non ho letto male praticamente c'è pochissima percentuale di trovarlo effettivamente eh ma se non lo trovi hai quello raro eh penso che trovi una cacata non lo so ritrovamento esotico 4% sì voglio capire se tu hai il titolo molto raro che sta facendo dodo stava prendendo i sì ho preso delle nuove hai molto raro eh non lo so non l'ho inventato io il gioco vabbè io provo esotico ti prenderei una cacata sicuramente ritrovamento non esce esotico minchia ho trovato ah la dominus quello che ho io quello che ho io che schifo ah non è male qua che schifo che schifo che fallimento dai io apro il ritrovamento raro oh fai le competitive dai bella quella quella la farfalla è bellissima io direi di fare una cosa cosa trova ma ho trovato la la scarabè ma com'è la scarabè c'ho io già io ieri ho avuto questa carrozzeria ah la carrozzeria ieri ho avuto questa comunque ragazzi ho trovato molto raro capito facendo esotico ho trovato molto raro io ho avuto questa carrozzeria comunque raga che ne dite andiamo su fall guys no facciamo poi le competitive facciamo uno o due competitive se vediamo che va male cambiamo il giorno ma è che fall guys a quest'ora non vernesce più cioè non è però è più tranquillo il problema è l'ultima delle ultime ti ricordo no 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 dai no io cambio macchina io sto andando eh dove stai andando o comunque pacchi ci stanno scrivendo che cazzo di moderatore sei allora ha scritto posso fare una partita poi e non cambiamo domenico domenico il canale è tuo dovrei decidere io io sono solo il moderatore tu ti vuoi dissociare ma guarda non è per cattivo non è che non non c'è non è che siamo a sociali vai da me ci piace fare figure di merda sulle competitive comunque mimmo non mimmo mammo chiede è l'unico che ci stava commentando fino a poco fa chiede se la vogliamo fare l'uno contro tre no ma io vi direi ragazzi ma non fino a questo punto è stato già umiliante è stato già umiliante perdere secondo me per averlo detto è uno di quelli che vola e ti prende la palla da sopra e quelli che volano malissimo 5.400 ore di non penso che l'avrebbe mai detto per questo sa no ma ha detto che ci vuole ci vuole insegnare e allora sì però non è questo il giorno no ma ripeto non è tanto per fare la socialità che qualcuno se ne è andato ha detto che gioca solo da quattro mesi noi abbiamo fatto quattro partite vabbè per iscritto cosa sbagliamo di più più di tutto se puoi commentare darci il consiglio ma comunque sono allora sono diamante in due contro due del livello diamante poi ha detto ha detto allora l'errore principale è che dodo peste fa schifo dodo peste fa schifo perché non posso dargli i ruoli non posso essere scritto dodo peste fa schifo se giocate senza di lui forse riuscite a vincere quel posto comunque comunque l'altro giorno abbiamo fatto due contro due io e Pierpaolo siamo stati incontenibili sì è vero infatti mi dispiace di aver perso questa questa live io non ho capito io non ho capito ah ragazzi ma voi che sicuramente usate twitch più di noi come cazzo facciamo a salvare le live questo è il commento che vogliamo sapere sì perché molti fan ce l'hanno chiesto esatto noi abbiamo io sto trasmettendo dalla playstation 4 ma non ho assolutamente idea comunque smettila di parlare al plurale quando dici ragazzi c'è solo uno che ci sta zitto i altri si è zitto loro non lo sanno o lo sanno o lo vedono o lo sanno e oggi praticamente noi oggi non abbiamo avvisato che facciamo la live per questo c'è poca gente mamma mia io comunque sto gironzolando con la macchina bene andate tutti sulla palla dovete organizzare dei ruoli uno si allena solo in difesa e due in attacco così uno difende due attacco ma noi ci proviamo e giocare invece ruotando i ruoli no se c'è un basket si pedisce i pedici è sostituendoci esatto beh comunque non è non è sicuramente l'11 e 11 c'è ma il problema è quando uno fa schifo in tutti i ruoli dove lo mette ma quello la devi di si installare il gioco e basta proprio tipo io sto in porto io sto in porto allora ho fatto questo non mi sento forte perché comunque questi questi sono andati proprio in di Sibilio si può dire di Sibilio non c'entra niente non c'entra niente di Sibilio dissociate di Sibilio uno uno poi l'altro problema è che noi dobbiamo imparare a parlare in italiano anche questo è un grande problema ma no è proprio è proprio la nostra caratteristica quindi dice ci sta a parlare sgrammaticato o proprio inventarsi le parole comunque l'altra volta ha detto ruotando i ruoli è una buonissima tattica se uno fa schifo in attacco non serve nulla a mandarlo in attacco capito pachi vai a fare in culo hai sentito ho sentito dire che è una buona tattica l'ha detto vero ma non ha detto che tu fai schifo in attacco cioè era sottointeso però comunque l'altro giorno abbiamo fatto la live e Pierpaolo da soli io ti giuro da spettatore mi sarei tagliato i coglioni non sarei sbudellato ma che noia di live quello gioca ha detto che gioca da mouse e tastiera non da joystick ma com'è da mouse e tastiera? il controllo gioca dal pc eh si grazie pachi per la l'obvietà del commento non ha collegato non ha collegato il mouse a tastiera da playstation e comunque si può fare io ho giocato con mouse e tastiera da playstation ovunque stiamo distruggendo questo mamma mia questa competitiva la lezione di mamma già si sentono comunque sento il reflusso tantissimo sta salendo il reflusso è moltissimo oddio santo si si tutti a vuoto tutti a vuoto e la giusta tattica il velo il non lupo il non lupo il non lupo ma no se non la parerò mai tu questa la pari al nostro spettatore perché io non la pari sicuro la pari scusate va bene sul 4 a 1 te lo concediamo dunque potremmo aprire cioè potremmo fare delle rubriche tipo giochiamo e io tipo racconto che cos'è il reflusso cioè ha il reflusso è l'acido che risale a risalire tutti no parata dillo dillo cos'è il reflusso no non lo so mi sono incastrato che non lo so quindi spero ha commentato non vorrei che sa qualcosa su reflusso se la c'era pure di me allora vedi vedete se il vostro compagno va sul pallone lasciatelo andare non seguite finchè non tira o sbaglio questo sta scritto soprattutto a pierpi 82 ha detto si ha detto si vede che gli piace fare messi oh divisione 2 divisione 2 mi sento un po' più tranquillo tu sei divisione 2 si si finalmente sempre più lontano quel bronzo incredibile quel bronzo che ci ha accompagnato ci ha accompagnato per settimane mi sento un po' più sereno mi sento un po' più sereno all'ero messi gta ragazzo si chiama l'ero messi allora sempre per la rubrica io soffro di reflusso gastroesofageo prima cosa vi consiglio assolutamente di fare respirazione diaframmatica ragazzi e non scherzo miracoloso non sempre ma miracoloso meglio di spendere 40 euro di esox e questo per fare pubblicità al medicinale no pierpi pierpi 82 importa qualcosa di fenomenale ci provo ai rai da me lei non ha scusato mamma mamma lanza quando la palatina così vicino la prossima rubrica sarà dedicata sempre medicina con rocket league comunque vorrei fare una domanda sul nostro caro telespettatore telespettatore ma secondo lui da quel poco che ha visto chi è il più tecnico chi è il più tecnico questa domanda allora sì ma ha scritto minchia la prof di musica mi ha rotto il cazzo costo di frama per fare la nota perfetta no non sembra non è tanto per la per la nota perfetta ma tanto perché erano presenti io sono un soggetto molto ansioso quindi io rompo i coglioni al mio stomaco comunque ha detto che sembriamo tutti uguali è stato buono non ha voluto fare il nome di dove grazie comunque si vede che giochiamo notte 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 giorno notte giorno 24 ore in funzione comunque a me basta sapere che per l'amico mio sono forte poi per essere non obus se per i miei amici sono forti a giocare a questo non mi serve non mi serve a noto madonna come vi vedo volare state volando in cielo ma il cazzo è stato brutissimo va bene va bene con la collaborazione va bene in collaborazione con bellissima è fatto da comunque telespettatore guarda i risultati volete quello il tizio che sport è sempre quello che sta moderando il canale c'è a 24 punti e c'è 0 0 0 0 0 0 ma perché sto facendo una partita di contenimento che stai contenendo i miei coglioni vedi pierpaolo che stavo andando io sul pallone vanno che brutta palla non la fare mai 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 avrei il bronzo qua si vede il bronzo c'è guarda che è giocata i punti ha scritto i punti non fanno il player capito domenico hai ragione e la skin non fa la carrozzeria vai 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 sei proprio cercato domenico la skin non è lì che stavi dietro non la skin non fa la carrozzeria non fa la macchina c'è da vincere in due secondi l'abbiamo ribaltata però voglio ricordare la partita prima del torneo che è stata qualcosa di ti giuro c'era ancora nello storia di evo sarà la partita che mi porterà il reflusso no ma torna vai 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 no non mi ha detto la parata ma veramente vabbè pure la parata vuoti è arrivata in faccia ovvio se non lo so no no volevo buttarla volevo prendere la distriscia c'era messi qua stavano facendo messi mamma mia che brutta palla che ho messo madonna ma no ma sto perdendo follo e ora li ho riguadagnati se stavano andando per bellissimi dai questi punti non fanno il monaco ma che schifo mamma mia è liscio che rovesciata che ho fatto la rovesciata ragazzi è importantissimo ma perché non so perché mi ha sminchiato perché se il solione mi sono abitato vabbè questo giustino ai 24 punti si è rimasto a 20 veramente brutto sono rimarrò a 24 per tutta 1 1 è lo specchio della partita di oggi che fatto a pallone più rock e flip mamma mia adesso non ho manco giocato male stasera e che proprio ma che cosa ripeto che vabbè ragazza dovevano così fatelo ragazzi secondo me è arrivato il momento di disinstallare ah, what a lovita ful guys si si che dura un casino scusa ah l'altra cosa che sbagliamo e ne converrà sempre il nostro amico ma ma cosa è gol? mama mia dai dai mi è venuta l'ansia di prenderla in caduta, guarda io stavo cadendo dal cielo dai facciamola l'altra sono caduto alla miso sposto uno dietro il tibone di fall guys però vorrei streamare fall guys fall guy non l'abbiamo streamato infatti l'altra volta abbiamo fatto due partite il problema è che vogliamo fare una 4 contro 4 casuale giochiamo in 4 il verso di pier paolo mamma il problema che pier paolo molto timido ed è poco inclusivo ma muore vai ma che schifo ma che dai 3 secondi dalla p ma fai gol in 3 secondi ma che bel golletto che bel gollonzo allora fall guy stavo dicendo è durassato ma comunque sono meno 5 e non penso che durerò ancora per molto ma donna stavi arrivando ce l'avevi io non so se si può dire su twitch ce la vedi duro io nel dubbio mi dissocio comunque stiamo andando ma sono una meno 5 ma quante cazzo andiamo mamma mamma noi stiamo andando su fall guys così salutiamo i nostri spettatori solo per ah perché mo' si chiude la live si si ci rivediamo fra un po' giocheremo a fall guys si chiude la live se vuoi vedere dopo la pubblicità dopo la pubblicità dopo la pubblicità ciao